Aprire l'applicazione Gmail. Selezionare Aggiungi un indirizzo email. Cliccare su Altro. Digitare l'indirizzo email completo della casella da configurare. Cliccare su Avanti. Scegliere l'opzione IMAP. Digitare la relativa password della casella da configurare. Cliccare su Avanti. Nel campo Server, digitare imaps.aruba.it. Cliccare su Avanti. Nel campo Server SMTP, digitare smtps.aruba.it. Cliccare su Avanti. Cliccare nuovamente su Avanti. Attendere qualche istante. Nel campo Nome, digitare il nome che si desidera far visualizzare per i messaggi inviati. Ed infine cliccare su Avanti per completare la configurazione.